Il candidato ideale per una correzione della ginecomastia è un paziente maschio che presenta questo problema a livello di entrambe le mammelle come nella maggior parte dei casi si verifica e che chiede di ottenere un torace piatto. Questi pazienti infatti lamentano il fatto che quando si espongono ad esempio al mare o quando si spogliano in palestra mostrano un torace che ricorda quello femminile per le dimensioni o addirittura la forma delle mammelle. Questi pazienti vivono con grande disagio questa condizione e richiedono il cambiamento della forma della propria mammella e soprattutto la riduzione della sua dimensione. Il paziente ideale può essere un soggetto giovane, adulto, che presenta questo problema fin dall'adolescenza oppure può essere anche un paziente più in là con gli anni che ha sviluppato questo problema ad esempio in conseguenza dell'assunzione di alcuni farmaci. Ci sono delle medicine infatti che come effetto collaterale provocano un ingrandimento della ghiandola mammaria e della mammella in generale come ad esempio alcuni farmaci contro la pressione o alcuni farmaci che vengono somministrati per correggere i problemi della prostata.